Estorsioni, spaccio di droga, riciclaggio, attività illegali online, sono queste soltanto alcune delle attività illecite gestite dal gruppo criminale Venosa Schiavone che sono state scoperte dai carabinieri di Casal di Principe. 46 le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettanti indagati, tutti ritenuti appartenenti al clan dei casalesi. I provvedimenti sono stati effettuati nelle province di Caserta, Napoli, Benevento, Viterbo, Parma, Cosenza e Catanzaro. Tra i destinatari delle misure cautelari è anche l'ex boss Francesco Schiavone, detto Sandokan, e il figlio Walter. Il gruppo è stato sgominato grazie anche alle rivelazioni del collaboratore di giustizia Raffaele Venosa, ex reggente del omonimo clan che si occupava in particolare della gestione di una piattaforma per il gioco online con imposizione del pizzo ad alcuni titolari di esercizi commerciali. Il clan manteneva infatti il 60% dei guadagni reali. Gli appartenenti a questo gruppo criminale sono accusati di essere attivi nel ramo illegale delle estorsioni e della gestione del gioco online. Agivano prevalentemente nei comuni casertani dell'Agro Aversano. Le misure cautelari sono state emesse dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le accuse contestate dagli inquirenti a vario titolo sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ricettazione, estorsione, illecita concorrenza con minacce e violenza, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio e detenzione illegale di armi. Abbiamo tratto in arresto tra gli altri anche Valte Schiavone, figlio di Francesco Schiavone, detto Sandokan, storico capo clan dei Casalesi. Valte Schiavone è stato ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso e in particolare durante l'indagine abbiamo appurato che il reggente protempore, Venosa Raffaele, pagava lo stipendio a Francesco Schiavone e a ritirare quale rappresentante dell'importante all'interno del clan famiglia Schiavone era proprio Valter che oggi abbiamo catturato. Il reggente protempore aveva organizzato, riorganizzato l'associazione camorristica di cui noi abbiamo ricostruito l'articolazione ed in particolare per alimentare la cassa e poi pagare gli stipendi, aveva istituito molte attività illecite, tutte individuate nell'ambito dell'indagine, in particolare c'erano le classiche estorsioni ai commercianti del territorio, l'imposizione delle slot machine per cui sono finiti in manette anche i referenti delle società per concorse esterne in associazione mafiosa, l'imposizione di una piattaforma online il cui profilo di amministratore era gestito da parte della figlia, del reggente protempore e da parte del genero, uomo di fiducia del capo clan Venosa Raffaele. Poi c'era una gestione di una bisca unitamente a un titolare di un bar di Casa Pesenna, arrestato anch'esse per concorse esterne in associazione mafiosa e poi l'organizzazione di un'associazione dedica al traffico di sostanze stupefacenti e quindi il vero e proprio controllo delle piazze di spaccio dell'Agraversano, i cui referenti sono finiti in manette come membri dell'associazione perché ricevevano i favori del clan Grazie a tutti.